Direttore Lanzetta, oggi c'è il derby con Benevento, una partita importante per la classifica e per il morale? Sicuramente, d'ora in poi, ma già da prima ogni partita era importantissima per la nostra classifica. Questa lo è di più perché chiaramente loro sono a 27 e noi a 22, quindi vincere significa avvicinarci proprio a loro. E' una partita da affrontare con la massima concentrazione, la massima grinta e faremo di tutto per portare il risultato a casa. Una gara che purtroppo si giocherà a porto chiuso? Beh, questa è una situazione che ci stiamo trascinando già da un po' con il comune di Avellino, siamo in attesa di questi lavori di ristrutturazione che mai avvengono e a questo punto ci dobbiamo augurare che per il prossimo campionato sia tutto a posto. La salvezza del Cusso va costruita in casa dove c'è un rendimento da playoff? La salvezza di ogni squadra è chiaro che viene costruita in casa, poi tutto quello che riesce a fare fuori è tutto guadagnato quando si parla di salvezza.